Ciao a tutti ragazzi, qui Ron Bellicron 6 Circola su Reddit una teoria un po' inquietante Non sono un unico infatti ad aver sentito questi rumori Quello che sembra per molti un semplice bug, per altri nasconde qualcosa di più inquietante Se dice infatti che il rumore che fra poco vi farò sentire E che assomiglia molto ad una persona che russa In realtà si è il fantasma di quello che era accampato lì Altri hanno estremizzato invece che siano gli ultimi respiri affannosi di qualcuno a cui è stata tagliata la gola Sentite bene, metterò il volume quasi al massimo Al momento questa teoria non è stata né smentita né confermata Appunto resta solo una teoria Per quel che mi riguarda penso sia un bug Che si presenta quando si attiva la mappa del tesoro Magari non lo so qualcosa che vada a fare conflitto tra l'indità dell'NPC E la cassetta del tesoro Questa è la mia, diciamo, opinione Di certo la cosa è strana Ci si vedete nel prossimo video Ciao a tutti